le persone e vi aspettate che siano delle altre persone quante quante di voi diciamo quante di voi interagiscono che ne so avete a che fare con uno che ha 40 anni di onorato libertinaggio alle spalle e volete trasformarlo in una persona fedele non riuscirete mai non riuscirete mai oppure incontrate uno che ha una visione della vita di un certo tipo ha una visione della vita di un certo tipo e sperate che grazie a voi possa cambiare anzi c'è qualcuno che spera che grazie alla al detto del sommo poeta amorca nulla amato amar perdona le cose possono cambiare le cose possono trasformarsi invece le cose non si trasformeranno non cambieranno non cambieranno non cambieranno per niente le cose non cambieranno quindi e devi fare come il bravo contadino il bravo contadino semina nespole e si aspetta nespole non va alla non va alla ricerca di qualcos'altro c'era una canzone no che adesso mi ricordo che canzone era che diceva cercano qualcosa che non trovano tu non devi cercare qualcosa che non trovi tu devi cercare le cose tu dei seminaca che si aspetta esatto tu devi cercare le cose che ti va di cercare devi seminare i semi che ti che preferisci quindi tu non puoi tu non puoi diciamo tu non puoi sperare di poter trasformare le persone la una persona ti deve piacere almeno per il 70 per cento come la conosci cioè la seduzione e questo è un errore che fanno tante persone grazie gina fare monitoraggio ogni tre minuti grazie gina le persone non è che cambiano cioè tu puoi sedurre una persona ma se tu seduci una persona ti prendi quella persona lì cioè se seduci un catramista ti terrai un catramista se seduci una sciampista ti terrai una sciampista non è che il catramista perché l'hai sedotto te non è che il catramista perché l'hai sedotto te diventa che ne so Elon Musk per dire e non è che la sciampista perché l'hai sedotto te diventa Angelina Jolie per fare un esempio quello resterà sempre catramista e non sarà mai Elon Musk l'altra sarà sempre una sciampista e non sarà mai e non sarà mai Angelina Jolie per dire no quindi la speranza cioè la seduzione non trasforma le persone la seduzione non cambia le persone la seduzione la seduzione la seduzione non cambia le persone alcune persone ecco vabbè si scelgono un progetto questo è vero ed è un'altra cosa fallimentare no se tu ti scegli un progetto perché molte persone e questo devo dire lo fanno soprattutto le donne no quando le donne a una certa età hanno l'esigenza di essere ingravidate no perché vogliono a tutti i costi mettere un figlio e quindi hanno questa grande esigenza di essere ingravidate quando arrivano ad esempio a 35 36 37 anni poi dopo quando diventano malgascione carampane il problema non si pone più ma se non sono state ingravidate prima quando hanno quando hanno l'età diciamo di 35 36 anni hanno questa spinta no che è una spinta naturale una spinta istintiva del desiderio di essere ingravidate e allora cosa fanno allora si scelgono un uomo che le ingravidi indipendentemente dal fatto cioè indipendentemente dal fatto che questo qua gli possa piacere gli possa piacere